Non esiste nulla di paragonabile alla ASCO MedCAD Platform sul mercato italiano. È una piattaforma innovativa e supertecnologica che ha come obiettivo principale l'ottimizzazione del flusso di lavoro di tutti gli operatori che lavorano in mobilità all'interno delle strutture sanitarie. Riteniamo che presentare in anteprima italiana ad Expo Sanità all'ASCO MedCAD Platform rappresenti per noi un'importante opportunità per mostrare ai nostri clienti tutta la potenzialità dei rangi di soluzioni tese all'ottimizzazione dei flussi di lavoro. Il motivo di grande orgoglio per ASCO è nel lavorare in un'azienda come ASCO, ma è quello di mettere la tecnologia al servizio della cura dei pazienti. Ci rendiamo conto che nel trattamento clinico di un paziente la quantità di informazioni che sono raccolte spesso non sono utilizzate come dovrebbero. Questo spazio espositivo è in grado di mostrare attraverso vari punti demo le potenzialità delle nostre soluzioni e far toccare con mano ai visitatori le caratteristiche e la versatilità dell'ASCO MedCAD Platform. Quando facciamo riferimento a questi numeri, ovviamente questi numeri derivano in particolar modo a livello worldwide. Chiaramente ASCO è una multinazionale con prevalenza delle proprie filiali e delle proprie sedi in Europa. La piattaforma, oltre ad erogare i normali servizi di comunicazione voce, è in grado di erogare dei servizi a valore aggiunto. Servizi di messaggistica tra gli utenti, di allarmistica in integrazione agli apparati elettromedicali, servizi di push-to-talk per le comunicazioni ai gruppi. Mettendomi nell'ottica del paziente, cos'è che mi aspetterei? Mi aspetterei che il personale medico ed infermieristico abbia continuamente una visione completa del mio quadro clinico. Mi aspetterei tempestività nella risposta alle mie esigenze, sia cliniche che fisiologiche. e, perché no, una parola ed un sorriso. Una parola ed un sorriso che trova uno spazio solo e soltanto, ottimizzando i processi, lasciando più tempo a questi eroi di tutti i giorni, medici e infermieri, che curano i pazienti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.